Chiediamo come sempre di mettere al primo posto l'Italia. Noi siamo convinti che le risorse europee, siano quelle della BEI, siano quelle del SHUR, siano appunto quelle del MES, siano indispensabili in questa fase. In particolare il MES è un prestito particolarmente vantaggioso per la sanità. È un prestito che non ha condizionalità macroeconomica per l'Italia. Quindi queste sono fake, non vanno ascoltate. È un prestito che dobbiamo assolutamente accogliere e votare in Senato, anche lasciando stare le sigle, andando al merito.